Quali sono le principali criticità e le prospettive dell'economia mondiale? Abbiamo avuto una crisi in 2008, la crisi dei subprimes, che è stata generata per il fatto che la crescita che ha sostenuto l'economia mondiale negli anni del dopoguerra e che ha funzionato bene per 30 anni, ciò che gli italiani chiamano il trentennio d'oro, ma è finita negli anni 70, solo che non si siamo aperti di questo perché è come le stelle morte, esistono delle stelle a milioni di anni luce da noi, sono morti ma non lo sappiamo perché riceviamo ancora la luce. Allora per trent'anni, grazie alla magia di questo mago che è Alan Greenspan, c'è una trent'anno ancora di crescita fittiva, di crescita virtuale, diciamo, basata sulla speculazione borsica, la speculazione immobiliare, con una gigantesca bolla di credito, è crollato in 2007-2008. Cosa hanno fatto i governi? Hanno fatto la bellissima politica di prima e allora siamo ripartiti. Ora ho visto ieri sulla Repubblica che si dice che la crescita è ripresa, è una truffa naturalmente, perché parlano di crescita a 0.4, 0.5, che non ha nessun senso. Tutti coloro che hanno fatto economia statistica onestamente sanno che non ha senso un tasso di 0.4, 0.5, ma non vogliono accettare, affrontare la realtà che la crescita è finita, che si deve immaginare un mondo che può essere un mondo felice senza la crescita economica, perché non c'è bisogno, abbiamo una produzione talmente forte che distrugge purtroppo troppo i risorsi naturali non rinnovabili e che si può condividere meglio e vivere bene. Ma questo impone una decolonizzazione dell'immaginario, una rivoluzione della mente che nessun governo ha lo coraggio di affrontare.